ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi un video particolarissimo abbiamo il nuovo trailer di radio or not ufficiale ragazzi l'uscita della 1.0 quindi finalmente radio or not diventa un gioco ufficiale ce lo guarderemo insieme questo nuovo trailer del lancio di radio or not 1.0 che chiude questo 2023 in bellezza dovrebbe uscire a momenti in questo mese di dicembre niente ragazzi andiamoci a guardare il trailer di radio or not lo faremo insieme faremo questa live reaction se così si può dire andiamo a vedere il trailer allora andiamo a fare play buona visione ragazzi e al fine del trailer tiriamo le nostre conclusioni buona visione 911 this call is being recorded what is your emergency i i need the police you need to send the police right away come help me god i'm sorry i do want to die i'm sorry i love you help us you're ready yes sir ready move 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 take us down suspec down buddy's down i got you back gotta get you up ready drop your weapon we need backup wow so are you ready wow 13 dicembre ragazzi versione 1.0 di radio or not spettacolo sicuramente il trailer di forte impatto sostanzialmente quello che mi trasmette immersività è suspense quindi non so se vogliono appunto puntare su queste due sensazioni queste due emozioni che vogliono trasmettere a chi realmente simula su questo titolo per far appunto sentire il giocatore un vero e proprio operatore di swat o quello che è fbi andiamo avanti nel trailer per vedere tra l'altro qui che sembra tipo una mappa nuova una sorta di caverna se la possibilità magari di trascinare il ferito e di curarlo non lo so vedremo qui è bellissima la scena di adrenalina pura e forse la possibilità che gli oggetti circostante la stanza possano interagire con gli A e poi c'è questa scena finale come se vai a rapporto da un commissario da un ufficiale della polizia e come se devi rispettare degli obiettivi questo è quello che vedo e che sento vedendo il video il trailer insieme a voi la prima volta bello non vedo l'ora ragazzi che quindi appuntamento il 13 dicembre con il nuovo aggiornamento di radio or not non vedo l'ora ragazzi volevo chiedervi se avete delle sensazioni se avete capito qualcosa in più che magari non ho visto fatemelo presente nei commenti se avete avuto delle sensazioni diverse se avete visto qualcosa che non ho potuto osservare fatemelo presente nei commenti ragazzi mi raccomando se vi ha trasmesso qualcosa di diverso avete capito qualcosa in più fatemelo presente raga perché potrebbe essermi scappato qualcosa siamo al termine del video come ho detto prima non vedo l'ora che esca questo 1.0 di radio or not lo andremo ad approfondire sempre più perché voglio puntare su radio or not per questo 2024 nulla da dire veramente wow ok ci diamo appuntamento al prossimo video sempre qui sul canale un saluto ed un abbraccio dal vostro Blake ci diamo appuntamento al prossimo video